I Deventi I Deventi I Deventi I Deventi I Deventi Fisicamente è ancora apprezzabile questa età ed è importante arrivare alla mia età ma il segreto qual è? E' che io sono sempre stato con i giovani perché sono giovani di testa, capito o no? Chi è? Dov'è il mio traduttore qua? Tutti capiscono. Mi avete dato una grandissima soddisfazione la partita con Islanda perché siamo cresciuti e mi sono sentito veramente gratificato ed è importante arrivare a questa mia età avere ancora possibilità di dare, ma io ricevo anche molto da voi e domani vorrei ricevere un altro piccolo regalo se è possibile, avere una grande soddisfazione ma non per me, ma ma per voi, in modo particolare per voi stessi, perché adesso stiamo raggiungendo, secondo me quasi, non dico il top perché abbiamo ancora possibilità di miglioramento, però siamo sulla strada giusta, vedrete che ci saranno soddisfazioni per tutti, è in me in modo particolare che ho compiuto l'anno. 3, 4, 5.